pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa seconda domenica di avvento ci offre delle coordinate preziose per accogliere la salvezza e crescere nella vita nuova che cristo ci offre potremmo anche dire per raddrizzare un po la vita si tratta di indicazioni utili per tutti sia per chi è all'inizio sia per chi è già in cammino da un po andiamo al testo giovanni il battista è presentato nell'atto di predicare un battesimo di conversione invitava cioè le persone a prepararsi alla venuta del messia riconoscendosi bisognosi di perdono e desiderosi di cambiare vita l'immergersi nell'acqua era segno della volontà di morire alla vecchia vita e rinascere a vita nuova come dire dio viene dio viene a perdonarti a guarirti profondamente a ricrearti e darti una vita nuova la possibilità bellissima di vivere unito a lui di essere santo da qui si parte riscoprire che ci viene offerta tanta bellezza ricordo un pellegrinaggio con altre due suore a piedi a passaggi di provvidenza un incontro un uomo di origine albanese ci diede un passaggio era cresciuto nell'ateismo senza mai sentir parlare di gesù gli annunciammo la bellezza della salvezza che gli era proposta lui ad un certo punto stupito disse è possibile una cosa del genere è possibile vivere una vita nuova è possibile sentirsi perdonati per tutti addirittura se uno avesse ucciso certo dio a tutti offre questo dono meraviglioso il dono del perdono c'è qualcosa che spetta solo a dio un potere che solo lui può esercitare creare dal nulla e perdonare dal peccato paragoniamo il peccato a una ferita più o meno grave quando ti ferisci seriamente non basta coprire la ferita e far finta di niente se no ti dissangui la ferita va disinfettata curata affinché possiamo guarire ecco il perdono di dio fa questo e ancora più nella nostra anima ci ricrea interiormente ci rigenera sarandoci dalle ferite più profonde e tutto questo ci viene offerto gratuitamente lo ha meritato cristo per noi ha dato la sua vita per noi come farlo nostro semplicemente accogliendolo riconoscendocene innanzitutto bisognosi e dio sempre lo offre come ci ricorda spesso il papa dio non si stanca mai di perdonarci siamo noi che a volte ci stanchiamo di chiedergli perdono ricordiamolo dio entra nel cuore attraverso una porticina che si chiama umiltà dunque miei cari giovanni invita a disporsi ad accogliere tanta bellezza in arrivo e dice preparate la via del signore raddrizzate i suoi sentieri cioè concretamente che significa disporti ad accogliere il suo perdono riconoscendotene bisognoso e poi e poi voler raddrizzare i suoi sentieri a primo impatto cosa suscita la volontà di raddrizzare qualcosa che che abbiamo storpiato i nostri fuori bersaglio la via nell'antico testamento era l'alleanza israele conosce una via l'alleanza con dio camminare su questa via essere dunque alleati con lui lasciarsi guidare dalla sua parola vuol dire essere nella vita andare fuori strada significa mettersi nella morte ecco potremmo dire la via dell'amore come dio l'ha pensata e dritta i suoi sentieri cioè le sue parole le scelte guidate dalla sua parola sono lineari pensiamo al voler bene all'essere sinceri al donare di cuore al pregare a fare bene il proprio dovere al perdonare al sopportare pazientemente gli altri o le difficoltà è dritto lineare semplice è vero è santo è giusto che succede che noi spesso sconvolgiamo questi sentieri complichiamo le cose macchiamo la bellezza mischiamo verità e menzogna scegliamo il male scambiandolo o comunque preferendolo al bene dunque raddrizzate i suoi sentieri che vuol dire rideciditi al cambiamento disponiti a vivere secondo la sua parola preparagli la via renditi conto di aver bisogno del suo perdono e rideciditi a vivere secondo la sua parola basta sguazzare nel torbido stagnare nella mediocrità tenere un piede in due scarpe basta connivere con il male è possibile cambiare dunque non rassegnarti ma ripeti signore prendimi come sono ma rendimi come vuoi tu desidero cambiare desidero dire un nuovo sì nonostante una nuova caduta un nuovo fallimento signore voglio diventare santo voglio diventare santa voglio crescere nell'amore bene potresti chiedere ma da dove parto quale sentiero provo a raddrizzare per primo direi parti dalla cosa più evidente da quello che immediatamente ti accorgi che non va alla luce della parola di dio ad esempio prendi dieci comandamenti e alla luce della tua missione quotidiana facciamo qualche esempio semplice sei un religioso una religiosa e preghi la liturgia delle ore una volta sì e 45 no beh forse li potresti lavorarci su oppure ti confessi ogni anno bisestile beh casomai facci un pensierino purtroppo no oppure esplodi nell'ira mediamente 15 volte al giorno imprecando anche se ti cade un fazzoletto di carta per terra oppure butti via ore e ore tra cellulare e videogiochi che dici ci diamo una misura oppure fa più elemosina di te zio paperone casomai un po la carità oppure ti rendi conto che dedichi troppo tempo al lavoro e poco alla famiglia insomma parti da quella cosa più palese per la quale chiedi grazia a dio e sulla quale vuoi lavorare ma io non me ne rendo conto beh allora chiedi aiuto a una persona matura nella fede a qualcuno che ti vuol bene cominciando da chi hai accanto ad esempio ricordo una coppia di sposi che prese un bel proposito una volta al mese facevano una sorta di revisione di vita e si chiedevano l'uno all'altra cosa posso fare per essere un marito una moglie migliore si dicevano una cosa ascoltandosi senza controbattere e poi si davano il tempo di poterci lavorare su tornando al vangelo abbiamo detto dio offre tanta bellezza a noi chiede di accoglierla e disporci a vivere secondo la sua parola ma fateci caso come continua il battista dice ogni burrone sarà riempito ogni monte e colle sarà abbassato le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate e ogni uomo vedrà la salvezza di dio come a dire tu accogli il signore fai spazio al suo spirito al suo perdono rideciditi al cambiamento dire i tuoi piccoli si quotidiani e lui farà in te qualcosa di meraviglioso riempirà i burroni cioè colmerà i nostri vuoti il nostro profondo bisogno di essere amati e accettati per quel che siamo la nostra sete di verità il nostro desiderio di pace ognuno ha le sue zone d'ombra nel cuore i suoi burroni più o meno profondi e segreti rimpianti scoraggiamenti delusioni sensi di colpa ecco il signore viene a riempire colmare redimere perché la nostra vita sia piena piena della sua luce della sua tenerezza e ogni colle sarà abbassato lui per mezzo della sua parola attraverso gli eventi della vita abbasserà i nostri monti la nostra superbia il nostro orgoglio ad esempio quante volte il signore permette che cadiamo nelle stesse debolezze che abbiamo condannato negli altri così ci insegna a non giudicare ad avere più misericordia quante volte come ci ricorda spesso il papa sono proprio le nostre debolezze ad insegnarci più dei nostri successi e così forti del suo amore non avremo bisogno di sentirci meglio degli altri di dispezzarli invece di perdere tempo giudicando e criticando lo sfrutteremo al meglio amando e sorpresa finale le vie tortuose diventeranno dritte e quelle imperve spianate ma come poco fa ha detto raddrizzate i suoi sentieri e qui dice che le vie tortuose diventeranno dritte sì come a dire tu mettici del tuo nel voler raddrizzare le cose ma sappi che sarà dio a raddrizzarle profondamente è lui che ti dà un cuore nuovo che dal di dentro ti cambia e ti rafforza un po' come accadde a san francesco d'assisi nel famoso episodio dell'ebroso francesco quando era nel mondo aborriva e le brosi incontrato gesù iniziando a meditare il vangelo incontratone uno si fece forza gli andò incontro lo abbracciò lo baciò e avvertì una trasformazione interiore ciò che prima mi sembrava amaro divenne dolce ciò che prima era dolce divenne amaro quando gesù chiamò i primi discepoli disse loro seguitemi io vi farò diventare pescatori di uomini cioè tu cerca di venirmi dietro di i tuoi sì quotidiani sarò io a fare in te qualcosa di meraviglioso sarò io a fare di te un capolavoro di bellezza quel santo quella santa che da sempre ho sognato che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti grazie